Si è spostata nel centro commerciale Due Mari di Maida davanti all'ingresso Carrefour la protesta dei 52 dipendenti della sede di Crotone della catena francese lasciati a casa lo scorso ottobre con un messaggio whatsapp dal titolare Franco Perdi. Un messaggio al quale non è seguito un licenziamento formale mettendo così i lavoratori in una sorta di limbo. Risultano ancora in forza lavoro ma nel frattempo il supermercato è stato chiuso. Loro non ricevono lo stipendio d'agosto e non riescono ad avere dialogo con il titolare. Chiedono quantomeno un ammortizzatore sociale come la Cassa Integrazione. Noi abbiamo fatto di tutto come CGL, CISREQUIL, come FISASCAT regionale, siamo arrivati al MISE, siamo arrivati al Ministero del Lavoro dove abbiamo trovato grande disponibilità. Però l'azienda non si presenta a nessun tavolo, addirittura l'azienda stessa aveva fatto istanza presso la commissione dei partiti di Reggio Calabria e non si è presentata neanche lì. Per cui i lavoratori vivono una situazione assurda. Con fischiette e striscioni i dipendenti hanno animato il centro commerciale stanchi di non essere ascoltati dopo due mesi di sit-in. Due settimane fa sembrava essersi aperto uno spiraio nella vicenda del caso infatti si era discusso a Roma alla presenza del sottosegretario al lavoro di piazza, della parlamentare del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGL e CISLEQUIL. In quella sede il Ministero del Lavoro si era impegnato a contattare e convocare in tempi brevi i legali rappresentanti della GDL-SRL, componente della Holding Gruppo Perri, proprietaria del punto vendita di Passo Vecchio, al fine di attivare un ammortizzatore sociale in virtù della procedura di concordato avviata dallo stesso gruppo. Noi siamo ancora in forza lavorativa e non sappiamo quello che lui vuole da noi, cioè quello che vuole fare. Noi stiamo chiedendo una cassa integrazione, così almeno ci tutela per un anno e rimaniamo legati a questo supermercato. Stiamo aspettando una risposta da noi e siamo qua per questo.